E ci avviamo verso le conclusioni, non prima di aver detto in poche battute anche la nostra sull'ennesimo scivolone della politica a Milano durante una riunione del Consiglio regionale, durante la quale il Presidente Formigoni ha chiamato Pirla il capogruppo dell'IDV che lo aveva accusato di non aver mai lavorato e fatto solo e sempre politica. Al di là dello scambio di insulti che c'è ormai dovunque e quindi non fa notizia, il Pirla di Formigoni, che lui stesso ha definito in senso evocativo, ma dovrebbe spiegarci cosa significa perché evocativo ha tutt'altro significato, il Pirla ha fatto il Giro d'Italia ed ha ispirato l'elegia del Pirla scritta da Alessandro Cossu, responsabile dell'ufficio stampa di cittadinanza organizzativa, movimento di partecipazione civica a difesa dei cittadini, una cosa che ci ha colpito e che in fondo ci è piaciuta, insomma secondo Cossu per estensione il Pirla di Formigoni è il Pirla italiano, il cittadino che paga le tasse fino all'ultimo, che adotta un comportamento responsabile, che si indigna di fronte ad un sopruso, che chiede conto al politico come all'amministratore di condominio, insomma l'italiano che si fa strada da solo e non deve fare anticamere politiche per superare gli ostacoli e non si arricchisce o fa carriera velocemente. L'elegia del Pirla fa capire che l'Italia è fatta da alcune decine di milioni di Pirla che sgobbano e che sudano per vivere e da qualche migliaio di furbi, tra i quali quei politici che non sgobbano e non sudano, che negano sempre tutto e che non si dimettono perché rispondono solo ai loro capi e non avvertono il pudore alla civiltà ed il senso di responsabilità, fatte ovviamente delle eccezioni perché di politici seri ed onesti ce ne sono, non tanti ma per fortuna ci sono.